ciao ciao benvenuti o bentornati nel cinema e grifone io sono anna e io sono daniele oggi andiamo a fare un test cercando di rimanere il più tempo possibile fuori da casa infatti abbiamo la la borsa la borraccia la tracolla e il nostro fidato zaino per passare tutta la giornata differenza degli altri video in cui abbiamo fatto comunque un percorso oltre ad essere più lungo quindi molte più ore e molti più chilometri quindi per testare realmente come riuscivano a percorrere al giorno almeno 20 30 chilometri in base all'esigenza oggi non cucineremo sul campo ma testiamo dei cibi che sono stati essiccati o comunque che sono facilmente conservabili nel tempo quindi che si potevano trasportare quando andavi appunto a fare dei percorsi di viaggio perché perché come sapete sta piovendo in questo periodo e quindi ovviamente andare ad accendere un fuoco sul bagnato la legna bagnata è praticamente impossibile per quanto si possa avere un'esca per il fuoco buona comunque non accenderebbe il legno che è troppo bagnato quindi oggi è un esperimento un po diverso perché vogliamo proprio adattarci al nostro territorio e a dopo ciao ciao eccoci alla prima tappa della nostra escursione siamo più o meno a un quarto di percorso abbiamo appena iniziato ovviamente tenete presente che quando ne andavano a fare dei percorsi di cammino quindi si accampavano lungo la strada naturalmente soprattutto in inverno come adesso le ore di luce erano molto molto poche ristrette e si svegliavano all'alba appena sorgeva appena c'era luce appena sorgeva il sole riprendevano tutte le loro cose ripartivano e poi prima che facesse buio ovviamente bisognava trovare un giaciglio un riparo se non potevi arrivare ad accedere alle stazioni di posta o a quelle forme diciamo antiche i primi le prime forme antiche di bnb quindi o magari un convento che ti ospitasse o qualsiasi struttura quindi dovevamo noi trovare un giaciglio nel bosco ma non lo potevi fare alle 5 di pomeriggio che già era buio dovevi anticiparti e quindi magari quando il sole era a mezzogiorno quindi esattamente a metà giornata iniziare a notare nel bosco o lungo il percorso se ci fossero dei posti che potevano essere utilizzati per un eventuale giaciglio noi non siamo partiti all'alba noi siamo partiti intorno alle 9 quindi attualmente saranno bolle 10 le 10 e un quarto più o meno considerando il sole non ci siamo portati l'anello solare perché lo abbiamo dimenticato in macchina perché sarebbe stato molto interessante verificare l'orario per ipotesi che l'abbiamo portato potevamo controllare l'orario anche se comunque l'anello solare è un attrezzo possumo all'epoca che facciamo noi però è comunque un oggetto utile perché ci fa capire l'orario in cui ci troviamo sicuramente nel medioevo loro sapevano orientarsi in base alla posizione del sole avevano altri sistemi soprattutto se viaggiavi poi comunque anche con le meridiane anche se nel bosco insomma la meridiana non è che la puoi avere però insomma la determinazione del tempo quindi l'arco temporale durante la giornata è una cosa conosciuta da tempi in memory una cosa che abbiamo notato ormai siamo alla quarta uscita è che all'inizio noi con le prime uscite dovevamo testare le attrezzature quest'uscita invece ormai abbiamo imparato come sono le nostre attrezzature quindi in realtà ci stiamo vivendo questa più come un'escursione sì vera e propria anche perché ovviamente non abbiamo portato in questa occasione dei bagagli particolarmente pesanti quindi siamo abbastanza leggeri e come dicevamo anche le altre volte la borsa tascapane è perfetta per portarci il cibo necessario per questo tipo di cose non ti pesa sulle spalle e anche lo zaino oggi non c'è quasi niente rispetto all'ultima volta però non è comunque un peso difficoltoso questo tragitto all'inizio era tutto in salita quindi comunque sarebbe stato pesante più magari tosta come cosa invece andando tranquilli ce la siamo fatta veramente come diceva lui come una tranquilla scampagnata diciamo normale da persone degli anni 2000 poi comunque la temperatura non è neanche tra le più basse alle 9 era ancora bassa bassina la temperatura adesso si sta alzando il sole infatti vedete come i raggi ci cadono si sta scaldando comunque l'atmosfera ed è anche piacevole camminare poi comunque siamo circondati da un bosco di faggi, lecci, tigli e ho visto anche dei carpini albero tra l'altro molto caro a noi arcai il carpino e quindi nell'eventualità in cui nel periodo medievale una persona viaggiando doveva comunque allestire una persona comunque capace doveva allestire un arco quasi alla buona all'improvviso aveva comunque ottimi prodotti per poter per poterne fabbricare uno insomma abbiamo deciso ovviamente come sempre di testare sul territorio ipotizzando come poteva essere realmente un percorso svolto da persone nel 1200 e quindi abbiamo diviso e divideremo proprio quello che stiamo andando a fare in tappe. Come abbiamo detto la prima tappa è questa quindi calcolando che siamo partiti alle nove dopo un'oretta siamo a metà mattinata faremo una piccola pausa breve diciamo un break anche per mangiare un piccolo spuntino quindi mangeremo quello che ci siamo portati ovvero delle mele essiccate e delle mandorle e dopo di che continueremo con il percorso quindi sarà diciamo una breve pausa la seconda tappa poi invece riguarderà ovviamente come dicevamo prima la metà della giornata quindi il pranzo siccome non possiamo cucinare sul posto ci siamo portati comunque un cibo che possiamo mangiare la terza tappa sarà prima di arrivare al buio cercare di capire lungo il percorso quale potrebbe essere come dicevo poco fa un giaciglio adatto a poter rimanere la notte e noi poi torneremo indietro nella realtà loro ovviamente non tornavano indietro ma continuavano a camminare quindi magari noi calcoleremo più o meno verso le due di pomeriggio il ritorno prima di arrivare ovviamente a che non si vede più nulla perché come dicevamo prima già adesso c'è poca luce essendo un bosco bello fitto alle quattro secondo me non si vede più niente però cercheremo come dicevo poco fa di trovare una soluzione ipotetica di un eventuale giaciglio e quindi come organizzarsi per la notte il tema notturno non sarà argomento di questo video sarà argomento di un prossimo video quindi rimanete sintonizzati perché ne vedrete delle belle stiamo già studiando come fare ok a tra poco ok 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 sapete cos'è questo questo è il mallo della noce le noci che comprate vengono da qui quella è la parte esterna che racchiude poi il guscio che è quello che viene ovviamente lavato pulito e commercializzato nei centri commerciali questa una volta rotta avete la noce all'interno il mallo della noce tra l'altro viene veniva utilizzato anche come tintura perché caccia un colore per tingere ovviamente la lana e soprattutto l'estratto di mallo della noce è usatissimo anche in campo cosmetico soprattutto nella schiuma da barba per rendere la pelle molto più morbida durante la fase di rasatura eccoci all'appuntamento del pranzo ci siamo fermati adesso che ci siamo fermati è luna passata boh sarà luna e mezza non lo so cominciamo ad avere un po di freschetto perché essendoci fermati dopo la camminata ovviamente la muscolatura si è raffreddata quindi cominciamo un po comunque a sentire fresco abbiamo comunque gli abiti ancora estivi perché effettivamente la temperatura è abbastanza alta quindi muovendosi riusciamo comunque a sentire caldo ma nei momenti in cui ti fermi ovviamente tendi ad avere un po più fresco per via della muscolatura che si raffredda abbiamo approfittato di questo posto dove ovviamente puoi accamparti appunto per un picnic quindi abbiamo colto l'occasione per fermarci e quindi mangiare e quindi questa seconda tappa riguarda ovviamente il cibo un po più sostanzioso come cibo più sostanzioso abbiamo portato un po di pane e della salsiccia secca perché come dicevamo anche prima per la questione del cibo che si deve mantenere nel tempo perché non si può cucinare anche se qui ovviamente potevamo farlo perché è fatto apposta ci sono dei luoghi dove puoi comunque accendere il fuoco quindi in realtà lo potevamo fare ma visto che è tutto bagnato infatti anche il tavolo è bagnato non si poteva fare cominciamo a essere un po stanchini perché comunque il tragitto è bello importante perché ci sono tanti tanti pezzi che sono in salita e comunque penso che qua ormai abbiamo fatto un bel po di chilometri ovviamente smontare uno zaino a telaio non è una cosa proprio facile noi siamo abituati con lo zaino moderno che o slacciamo o sganciamo le chiusure e abbiamo tutto là dentro in questo caso io ho dovuto fare una legatura a croce vedere dentro la coperta ci sta il nostro lenzuolo con all'interno il coltello e poi ci sta la salamella con il pane e quindi niente adesso non ci tocca che mangiare mannaggia ci tocca mangiare e poi aspetteremo un pochino ci fermiamo un altro pochino e cominceremo a tornare indietro perché comunque ci abbiamo messo buone buone tre ore quasi a salire qua quindi da andate al ritorno saranno circa sei ore di viaggio vabbè abbiamo detto che più o meno dovremmo fare una trentina di chilometri giù di lì quindi ci sta più o meno dovremmo starci se non saranno trenta saranno almeno una ventina sicuro a dopo è buono ma come potete sentire siamo accompagnati da mucche tante mucche abbiamo trovato mucche cavalli mucche mucche tracce di istrice tracce di cinghiali ovviamente mucche le mucche ci stanno accompagnando sempre qualche funghetto come animali penso basta solo questi abbiamo finito di mangiare adesso vi presentiamo una bellissima novità ci troviamo in presenza di una costruzione molto particolare del dell'appennino laziale è questa che vedete alle mie spalle e si chiama mandra la mandra è una tipica abitazione di fortuna dei passori che facevano la transumanza ed era di forma rettangolare o in alcuni casi ma molto raramente era di forma ovale veniva sempre costruita con materiali trovati in loco quindi con le pietre che venivano trovate e sopra era coperta da legna eventualmente paglia o la strama la strama è un tipo di pianta molto presente al nella zona del basso lazio del sud continuo ed è sostanzialmente una pianta molto resistente con cui ci si facevano anche corde si poteva utilizzare per fare i vestiti o addirittura quando ero bambino io ci legavano anche i broccoletti ad esempio bene questa qua è una tipica abitazione proprio della della transumanza serviva per proteggere le persone farle ovviamente per notare la notte una delle domande che abbiamo sempre da come si pernottava la notte la transumanza ci viene tranquillamente in aiuto perché ci mostra queste queste tra virgolette tecnologie tutti i muri a secco vedete comunque il muro come è ben incastrato attualmente conoscenza che hanno ancora pochissime persone fare un muro muro a secco e vedete l'ingresso della mandra è molto piccolo e soprattutto è basso la mandra stessa è molto bassa questo perché ovviamente il calore doveva essere mantenuto all'interno e soprattutto era molto difendibile cioè potevi potevi tranquillamente difendere senza senza grossissimi problemi sì di base da una parte ovviamente dormivano quindi si creavano dei letti dei dei giacigli per riposare sicuramente con foglie rami tronchi qualcosa per attutire ovviamente la notte e staccare dal terreno per l'umidità e di qua sicuramente invece c'era lo spazio per poter accendere magari un fuoco per cucinare per riscaldarsi per mantenere comunque gli animali selvatici fuori un'altra particolarità tra l'altro è anche questo buco questo buco centrale questo in realtà non sappiamo esattamente a cosa cosa servisse potrebbe essere oltre magari ad accendere il fuoco nell'angolo quindi come schermo riflettente veniva utilizzato proprio il muro potrebbe essere anche un buco proprio per accendere il fuoco un po come la camisa all'interno delle case giapponesi per avere un fuoco un calore radiante maggiore all'interno della dell'abitazione questa è una cosa bellissima che comunque a partire al nostro passato e penso che sia una delle trovate più belle secondo me come potete vedere in fondo ce ne sono altre due perché qui in questa parte ne hanno lasciate tre per fortuna insomma non sono state abbattute e sono veramente bellissime entrare all'interno di queste costruzioni ancora intatte dopo tutti questi anni è veramente emozionante qui ad esempio il quadrato che c'era all'interno dell'altra è fuori quindi magari poteva essere anche un abbeveratoio per gli animali magari mettevano l'acqua o raccoglieva l'acqua la ruggiata l'acqua di qualche ruscello magari non sappiamo le origini reali però possiamo ipotizzare varie varie situazioni ora sono le due e qualcosa stiamo tornando su e quindi niente ci riaggiorniamo dopo per la fase finale allora ragazzi siamo quasi alle tre di pomeriggio sulla via del ritorno come potete vedere il sole è andato via visto che essendo noi in montagna e il meteo cambia in un attimo non c'è più il sole si è annuolato tutto e quindi la visibilità è nettamente diminuita infatti comincia anche a fare abbastanza fresco però siamo a buon punto per il ritorno a casa ci aggiorniamo più tardi siamo arrivati alla fine del viaggio tra poche centinaia di metri c'è la macchina sì siamo un po stanchini ho dei dolori ai piedi allucinanti approfitto proprio per aprire l'argomento scarpe abbiamo notato una cosa molto particolare prima di tutto io avevo già al piede un dolore un dolore all'alluce aveva un incidente che mi è capitato questi giorni per cui camminando sentivo costantemente dolore almeno finché stavamo sulla zona molto più dura quindi diciamo un po più sulla pietraia nel momento in cui abbiamo incontrato la zona più terrosa il dolore è sparito perché ovviamente il mio piede era ammortizzato seconda cosa le scarpe storiche che utilizziamo non sono sicuramente delle scarpe tecniche moderne e per ovviare a questo ho dovuto utilizzare uno stratagemma moderno per avere un po più di morbidezza all'interno della scarpa e ho messo una soletta in gel si può dire della decathlon tanto non ci sponsorizza la decathlon comunque ho dovuto mettere una soletta della decathlon in gel per ovviare al problema del dolore questo principalmente per quale motivo semplicemente perché noi non conosciamo i sistemi per ammortizzare il piede all'interno della scarpa che utilizzavano in passato conosciamo solamente alcune metodiche che utilizzavano per esempio gli uomini primitivi che era una sorta di calza un'imbottitura all'interno delle loro scarpe fatta di libro comunque di sottocorteccia di alcuni alberi ad esempio la mummia di Siminao aveva una parte del sottocorteccia di un albero per ammortizzare il piede e hanno replicato questo sistema hanno visto che comunque ha un effetto molto elevato sia a livello di comodità che proprio a livello di prestazioni sulla camminata in fondo lui comunque come abbiamo capito camminava tanto ma noi comunque a livello medievale ancora non abbiamo scoperto nulla di diciamo di tecnico per avere una qualche informazione ce la può scrivere noi siamo contenti magari qualche link dove andare a fare ulteriori ricerche del caso siamo qui così esatto così almeno riusciamo a replicare anche questo questo sistema e testarlo ovviamente come abbiamo fatto oggi quindi a livello di scarpe sicuramente con le scarpe abbiamo sofferto molto varie volte negli altri video abbiamo detto che comunque queste scarpe non erano assolutamente attinenti per fare queste tipologie di cose ma ovviamente siamo poveri non ci possiamo permettere altre scarpe quindi per ora ci attacchiamo e utilizziamo queste scarpe altra cosa molto particolare come siamo arrivati proprio alla fine del diciamo del nostro percorso abbiamo trovato le mandre quindi quello era un buon luogo per per accamparsi in teoria ci saremmo dovuti fermare aspettare il giorno dopo e ripartire noi abbiamo semplicemente rifatto il percorso al ritroso per simulare la distanza ovviamente abbiamo detto più volte nel corso del video e ci riteniamo soddisfatti della prova secondo noi è andata benissimo e sono anche rimaste alcune cose di cibo quindi per la sera avremmo comunque avuto cibo da mangiare la salamella è finita la salamella è finita però è rimasto un po' di pane le mele e le mandorle quindi per la sera potevamo tranquillamente abbustodire il pane sulla braccia del fuoco e se riuscivamo ad accendere il fuoco però è sì perché oggi è stato perché era tutto bagnato ci erano pozze di acqua dove dove erano prima le mucche quindi non lo so magari uno si provava se non dormire al freddo e niente ora non resta che testare appunto come abbiamo detto più e più volte il giaciglio quindi restare proprio fuori a dormire in natura è un altro passo verso l'obiettivo finale che è quello poi di andare a fare un cammino proprio in vesti medievali quindi come si faceva nel 1200 ci stiamo preparando a questo grande passo che sicuramente avverrà ovviamente ormai nell'anno prossimo quindi a primavera dell'anno prossimo visto che l'inverno un po più difficoltoso poter fare questa cosa ci stiamo organizzando abbiamo tante novità tante cose che vogliamo fare e quindi grazie per la visione per il sostegno continuate a seguirci commentate scrivete lasciateci like niente ciao